Nella Pallapugno si è chiusa anche la Serie B con la promozione in Serie A di Alba e Castagnole Lante. A Ricca d'Alba sono tose le immagini, Davide Amoretti ha battuto 11-3, Massimo Marcarino. Ieri a Ceva l'Albese Vachetto ha battuto Simone Rivoglia, 11-1. Ora la finale di campionato di V tra Amoretti e Vachetto.